Si parte subito oggi, buongiorno, buongiorno, partite la sigla, buona vigilia a tutti, Martín è già passato in istrani, non si capisce il motivo Martín, saranno sopra dormendo ma sono le 9 meno 3 Martín, possiamo tranquillamente parlare, saluta il tuo pubblico, saluta il pubblico, qui devi parlare, il microfono è qui, non devi fare gli auguri a nessuno, un augurio in Uruguayano, un augurio a nessuno, in Uruguayano, felicità ne sa ninguno, bene allora Davide, tu che sei la mia nuova spalla qui a 2 in 1, il programma dell'anno, dell'anno quale? 2013 e 2014? 2013 e 2014, bravissima, bene, allora, la notizia del giorno qual è? Dichiaracela, quella che mi ha più entusiasmato è stato l'incontro, ancora l'incontro tra Papa Francesco e Papa Benedetto XVI per lo scambio degli auguri, c'è una bellissima cosa, è la prima volta nella storia che i due papi si rincontrano ancora per gli auguri di Natale, la prima volta nella storia, ma io mi ricordo ancora quando è stato eletto Papa Ratzinger, era tutto un programma, Papa Ratzinger, mi piaceva il gioco di parole, è tristissimo, bene, approfittiamo per mandare una canzone che in questo momento ci ha gasato abbastanza, stiamo parlando di happy, così un momento di felicità gratuito, no, non è happy day Martin, è quella happy, bene, la puntata finisce qui, vi auguriamo buon Natale, buone feste, un saluto da Pablo, Davide, Martin, oh, e Martini, buon Natale, buon Natale, buon Natale, buon Felina, vi auguro. Sous-titrage ST' 501